Domenica 4 dicembre nella sede del comando dei Vigili del Fuoco di Bolzano si è festeggiata la patrona protettrice dei Vigili, Santa Barbara. Si è svolta anche una funzione religiosa celebrata dal parroco Robert Gamper. Dopo il saluto del comandante dei Vigili del Fuoco, Ernst Preyer, si è parlato di numeri o meglio ancora di bilanci. Ben 2765 gli interventi effettuati quest'anno, 200 in più rispetto all'anno scorso. Quotidianamente la media degli interventi si attesta a 7.5. I numeri inoltre confermano che le operazioni relative agli incendi sono in calo. Aumentano invece gli interventi per incidenti sul lavoro, allagamenti ambientali e per calamità. In lieve incremento anche gli interventi che vedono in azione i Vigili del Fuoco per incidenti stradali, anche se complessivamente negli ultimi 9 anni il loro numero è diminuito del 50%. Infine il comandante dei Vigili del Fuoco di Bolzano, Ernst Preyer, ha ringraziato tutti i rappresentanti dei tre corpi della città, Bolzano, Gries e Oltrisarco a Slago, per il costante servizio di reperibilità fornito come supporto e rinforzo al corpo permanente.